Il decreto della Presidenza del Consiglio emanato in questi giorni è relativo alle modalità di conclusione dell'anno scolastico in corso e le modalità di avvio del prossimo anno scolastico tengono necessariamente conto di vari fattori e il primo fattore è quello relativo al possibile rientro o meno a scuola in una data che si è definita che sarebbe quella del 18 maggio. Per quanto riguarda gli studenti che devono sostenere le prove d'esame sia per le scuole medie sia per le scuole superiori la data del 18 maggio è discriminante proprio in relazione alla modalità delle medesime prove. Se si rientra entro il 18 maggio le prove saranno in presenza e costituite da commissioni interne dove accanto alla prima prova di carattere unico per tutti ci sarà una seconda prova modulata a seconda dell'istituto quindi ogni istituto predisporrà la propria. Se si rientra invece dopo il 18 maggio le prove saranno sostituite da un colloquio telematico per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado e dalla presentazione di un elaborato scritto per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado. Per tutti gli studenti invece appartenenti alle fasce e alle classi intermedie si è deciso di non procedere alla scelta di ammetterli o non ammetterli alla classe successiva non per un colpo di spugna ma semplicemente perché il ministero ha voluto tener conto del fatto che la didattica a distanza quest'anno per la prima volta è stata utilizzata in modo massiccio in via sperimentale e secondariamente perché non tutti hanno potuto seguire nello stesso modo la didattica a distanza vuoi per mancanza di strumentazione vuoi per tanti altri motivi per cui si utilizzerà parte del prossimo anno scolastico che inizierà il primo di settembre proprio per il recupero degli apprendimenti che eventualmente non sono stati raggiunti nel corso dell'anno. è comprensibile il fatto che il ministero abbia voluto in tutti i modi cercare di tutelare i ragazzi in una fase che è una fase nuova, strana, emergenziale e che ci porterà a cambiare anche le nostre abitudini per quanto riguarda il modo di fare didattica. La didattica online o a distanza ora è diventato un obbligo del docente a tutti gli effetti e quindi ci dobbiamo un po' preparare a convivere con questo nuovo strumento e ad utilizzarlo il meglio possibile. L'ultima nota riguarda i candidati privatisti quelli invece sosterranno l'esame di idoneità in presenza e sosterranno poi l'esame di Stato nella sessione straordinaria quindi a settembre del 2020 sempre in presenza. Credo sia una soluzione ispirata dal buon senso e soprattutto dalla volontà di rientrare in classe quando veramente l'emergenza epidemiologica possa dirsi comunque se non del tutto scongiurata almeno fortemente indebolita. Speriamo che si possa andare davvero in questa direzione.